Il movimento studentesco Area 51 ha coinvolto anche i liceali di Casteltermini. Da ieri fino a venerdì prossimo gli studenti hanno deciso di occupare l'Istituto Madre Teresa di Calculta. Più del 90% degli alunni ha aderito alla protesta organizzando attività formative di informazione e approfondimento relativi all'oggetto della protesta. L'iniziativa è contro i tagli alla scuola pubblica, privatizzazione delle scuole, aumento delle tasse studentesche e contro i privilegi della classe politica. I ragazzi, si legge in un documento, stanno lottando contro un futuro sempre più incerto e precario. La protesta si concluderà sabato 24 novembre con la partecipazione degli studenti al corteo che si terrà ad Agrigento.